Grazie. Grazie a tutti e grazie a professore Altini che mi ha introdotto e sono molto felice e anche veramente sorpresa di essere arrivata in questa sede bellissima e di avere davanti un pubblico in cui ho riconosciuto anche alcuni amici e questo mi dà un senso così più confidenziale in questo racconto che andiamo a fare adesso. Lei, professore Altini, ha già toccato uno degli elementi. Io ho portato delle immagini che sono dei dipinti di paesaggio che guarderemo insieme e magari anche attraverso degli spezzoni perché vogliono in fondo provare alcune cose. Una delle quali appunto è che il paesaggio dipinto non è esattamente lo specchio della realtà, come è stato detto, insomma molte volte è un paesaggio di idee, cioè l'artista sceglie, seleziona, stralcia, interpreta e alla fine restituisce qualcosa che non solo non è esattamente lo specchio di quello che l'occhio potrebbe registrare, ma addirittura a volte gli artisti hanno come delle antenne e selezionano nel paesaggio degli elementi di questo DNA del paesaggio che alla fine per noi quello diventa il paesaggio italiano, cioè quello che a volte io penso è che noi abbiamo un'idea del paesaggio italiano che molte volte è stata filtrata da certe immagini che hanno creato e inventato gli artisti. Voglio fare un esempio concreto. Quando si viaggia in Francia verso la Provenza, con la macchina c'è questa autostrada del Midi che passa lungo la costa e passa a un certo momento vicino a una città che è Aix-en-Provence. Prima delle città in Francia a fianco dell'autostrada ci sono questi grandi cartelli marroni che indicano il luogo. Quando si arriva ad Aix-en-Provence, invece di esserci scritto Aix-en-Provence, c'è scritto Paysage de Cézanne, perché un grande pittore come Cézanne tutta la vita ha dipinto quella montaigne Saint-Victoire, quei monti che stanno dietro alla città e alla fine questo luogo viene indicato come se fosse un luogo che per la prima volta lo sguardo di un pittore ha reso visibile e per noi è diventato quel luogo. Quindi non sono fedeli molte volte i paesaggi, però alla fine plasmano una certa idea di alcuni luoghi che noi continuiamo a vedere in fondo anche attraverso lo sguardo dei pittori. Comincio con una immagine che è quasi una cartolina, cioè questa è una veduta di Venezia, del luogo più tipico e più famoso di Venezia, quindi il Palazzo Ducale e il Campanile di San Marco, dipinta da un grande pittore romantico inglese, William Turner, il quale viene in Italia diverse volte. Questo è il 1818, lui scende a un albergo veneziano, il Leon Bianco e dipinge questa veduta di Venezia. Intanto la dipinge con una tecnica che da noi non si usa affatto. Noi siamo nobili con una grande tradizione rinascimentale, da noi si dipinge olio su tela per sempre, dei quadri che hanno una durata. Lui usa l'acquarello che per noi era quasi una tecnica da signorine, insomma era quasi una tecnica di secondo piano. E poi l'acquarello è liquido, fugitive dicevano gli inglesi, cioè è difficile da bloccare, tende a scivolare sulla carta. E lui dà questa immagine di Venezia che per noi è la quintessenza di Venezia. Noi oggi quando andiamo a Venezia la vediamo così, cioè una città eterea, immateriale, fatta di cielo, di acqua, senza dei contorni nitidi, quasi una città a bassa risoluzione diremmo se usassimo un'immagine di oggi. Cioè questa per noi, nella percezione di noi tutti, è l'idea di Venezia che è una città appunto così eterea, così immateriale. E in realtà questa idea di Venezia, che per noi tutti è diventata oggi l'idea che abbiamo, è un'idea che nasce in età romantica. Nasce da un pittore come Turner e da un grande poeta che era Lord Byron. I quali cominciano a raccontare Venezia vista in questo modo, che è poi questa città liquida, questa città senza contorni, questa città dove l'acqua si confonde con il cielo, meravigliosa perché Brodsky, che era un grande scrittore, che ha avuto il premio Nobel, diceva Venezia è la mia forma di paradiso. Cioè è una città unica, insomma, nel mondo e che arriva, voi la vedete qui in un'immagine di Monet, cioè di un grande impressionista francese, il quale elabora, svolge questa stessa idea che aveva introdotto 50 anni prima questo pittore romantico inglese, che è William Turner, il quale rappresenta Venezia in questa forma quasi in disfacimento, quasi una città erosa dall'acqua, dalla luce, che sarà poi l'immagine che fino a Debussy, fino a tutta quanta l'idea della grande città englutti, inghiottita dai flutti, continuerà ad andare avanti. Quindi, dico, questa immagine di Turner, che a noi sembra così giusta per Venezia, se l'è inventata lui, perché fino a quel momento Venezia, dal più grande pittore di vedute veneziane nel mondo, cioè Canaletto, che lavorava a Venezia, lavorava a Londra, aveva una fame internazionale, Venezia era una città di terra, una città solida, fabbricata, costruita. Quando Goethe arriva a Venezia dice è una città di castori, cioè su queste palafitte questi lavorano come... e quindi questa veniva percepita, insomma, come una città costruita, fabbricata, non così, diciamo, che si disfa quasi nell'aria. E questa, vabbè, è una cartolina che riprende l'idea di Turner, questi sono i marmorari di Campo San Vidal a Venezia, cioè gente che lavora sulla terraferma come fosse terraferma, e quindi la città è sempre quella, sto dicendo, però vengono degli artisti i quali estraggono da questa idea della città alcuni elementi che poi la caratterizzano. E nell'età più moderna nostra, Venezia è diventata quella specie di bisanzio della decadenza, questo luogo fino a Thomas Mann, la morte a Venezia, di disfacimento pieno di fascino, ma appunto una città della dissoluzione, da quando Turner per la prima volta ha ribaltato il modo di leggerla, di vederla. Quindi questo per dire che gli artisti non sono, diciamo, neanche i fotografi riflettono le cose come sono, c'è una componente molto soggettiva e in età romantica tu cogli della stessa città una cosa molto diversa. Faccio un altro esempio, per chi abita a Roma, attorno c'è un paesaggio che è quello della campagna romana, campagna con la C maiuscola, perché tutti scendevano dalle Alpi, da Goethe, eccetera, per visitare questo luogo dove c'erano questi greggi, le rovine, gli acquedotti. Cioè fuori Roma, lungo il Tevere, verso Ponte Milvio, verso il nord, c'era questo luogo meraviglioso che era la campagna romana. Tutti i pittori l'hanno dipinta. Se noi prendiamo un pittore come è Poussin, che è un grande pittore del Seicento, la campagna romana è un luogo idilliaco, perfetto, ritmato, ideale. Poi, se tu vai a leggere gli storici, a cominciare da Sereni, gli storici agrari, ti spiegano che in quegli anni, in cui Poussin la dipingeva come un paradiso perduto, la campagna romana era piena di malaria, di bufali inferociti, di luoghi terribili, difficili per l'uomo, poco coltivata. Addirittura Thomas More dell'Inghilterra diceva che i greggi stanno divorando gli uomini perché non c'era altro che un pascolo brado e selvaggio. Quindi, però, poi, tutta Europa è venuta in Italia sognando questa campagna che aveva conosciuto attraverso i dipinti di un grande pittore, che se l'era in qualche modo inventata o sognata. Però, alla fine, ha fatto presa e per noi quella è l'immagine. Ancora per... Ecco, voglio farvi vedere altri dipinti di Turner. Se voi pensate che questi sono dei dipinti di Venezia, eseguiti a Venezia e che hanno una data 1815-20, cioè, sono ormai dei dipinti quasi astratti, dove, insomma, noi li dateremmo nel pieno Novecento, dei dipinti così liberi, dove non esiste più quasi la forma, esiste soltanto questo sentimento di una città che è più... non sono più dei paesaggi visti con la retina, ma percepiti, diciamo, dal cuore, dall'emozione, e con una libertà che è una libertà assoluta. un'altra immagine di Turner, insomma, che siamo sempre in pieno... primi dell'Ottocento, di una tale disgregazione formale vicini ormai a una visione, diciamo, astratta della città. Grazie a tutti.